Da Monaco a Manduria per salvare l'organo della Chiesa Madre e il Rotary International a rendere possibile la ristrutturazione attraverso una sorta di gemellaggio tra i Rotary Club delle due città. A conclusione di un parziale restauro, Domenica a Manduria si è tenuto un concerto d'organo ad eseguire composizioni classiche e moderne la professoressa Anne-Marie Müller e suo marito, il professor Hans-Jürgen Müller, docente di psichiatria a Monaco, esperto organista nonché presidente in coming del Rotary Club di Monaco. Al concerto presentato dal giovane Ettore Zollino che in onore della nutrita presenza di ospiti stranieri ha presentato la serata in due lingue italiano ed inglese erano presenti numerose autorità civili e religiose, il vescovo di Oriam, un signor Vincenzo Pisanello, l'arciprete di Manduria, Don Franco di Noi, la governatrice del Rotary di Puglia e Basilicata, professoressa Mirella Guercia. Entro il 2016 è stata programmata l'ultimazione dei lavori di restauro ed è stato già fissato un nuovo concerto che consentirà agli esecutori di poter suonare senza le difficoltà attualmente imposte dalle limitazioni dello strumento. L'esecutore di questo concerto d'organo, il professor Hans Jürgen Müller è anche presidente del Rotary Club di Monaco. Professore, come nasce questa sorta di gemellaggio che c'è stata tra Rotary Club di Manduria e Rotary Club di Monaco per restaurare quest'organo? Questo accordo tra Rotary Club di Monaco e Manduria nasce da innanzitutto lo stato dell'organo che dopo delle analisi si è visto che non era in ottime condizioni. E quindi questo accordo nasce per migliorare l'organo e anche dalla passione che ha per questo strumento magnetico e che è un peccato lasciarlo in questa commissione. Sicuramente l'organo è uno strumento particolarissimo, però in quest'ambiente sarà sicuramente un bel sentire questa musica, questi brani che avete scelto. L'organo è molto relacionato alla musica, alla musica, alla musica, e soprattutto in questo momento, a Natale, c'è molta musica dedicata a chorale. L'organo è famoso soprattutto per, diciamo, associato alla chiesa a questo periodo anche del Natale e quindi oggi andranno proprio a suonare delle canzoni relative proprio a questo periodo, a questo strumento, suonando due preludi del più grande organista esistente che è esistito, Johan Sebastian Bach. E' bello avere appunto un aiuto, questa stretta di mano tra Rotary e Monaco e Manduria insieme per questo obiettivo. La sensibilità del Rotary Club di Monaco è unica. Se non ci fosse stato il Rotary Club di Monaco, noi avremmo avuto degli affanni a poter restaurare da soli una simile creatura, perché di una creatura si tratta e non può essere lasciata là. Abbiamo fatto per quest'anno un restauro solo parziale. L'anno prossimo, grazie all'aiuto di tutti, di tutti, anche i manduriani compresi, anche altre associazioni che vogliono cercare di vedere l'organo funzionare al 100%, noi andremo avanti nel nostro intento, perché il professore questa sera con la sua gentile consorte lavoreranno male, perché c'è solo la pedaliera e un altro sistema che funziona benissimo. Il manuale principale funziona benissimo, tutto l'altro resto no. Ecco perché bisogna avere la bacchetta magica e il professore ha la bacchetta magica per poter sicuramente deliziarci delle loro note. Sicuramente poi torneranno a Manduria per il restauro completo che verrà entro il 2016. Il professore sicuramente tra non molto potrebbe essere anche cittadino onorario di Manduria, alle qualità di essere un ottimo cittadino italiano. Il dottor Di Noi diceva che il professor Müller in definitiva sarà tra breve un cittadino onorario di Manduria, anche per questa sua opera relativa al restauro del nostro organo. Certo, credo che sia già residente comunque qui o che comunque abbia una proprietà qui da noi da un po' di tempo, quindi è venuto, ci ha onorato, è uno dei tanti cittadini del nord Europa che negli ultimi anni si sono insediati qui da noi. Per fortuna, oltre che la presenza fisica, ci ha portato anche le sue capacità artistiche, quindi anche l'anno scorso abbiamo già fatto un concerto con lui. Quest'anno lo ripetiamo grazie ai Rotari che hanno preso l'iniziativa, soprattutto quella anche di sponsorizzare questo restauro del magnifico organo qui della Chiesa Madre, che è monumentale, ma proprio perché è monumentale ha bisogno di un intervento importante, quindi ci vuole l'impegno di un'associazione importante come sono i Rotari per poter portare a termine quest'opera. Ringraziamo chiaramente il professore e la sua consorte che si esibiranno nel concerto di questa sera, sicuramente non ci annoieremo. Eccellenza, hanno scelto l'organo della Chiesa Madre di Manduria per questo restauro, sicuramente è apprezzabile questo contributo. Certamente è apprezzabile. Il restauro deve essere compiuto, siccome si è scoperto anche un danno maggiore di quello preventivato, si è pensato comunque di posticipare il restauro, ma fare ugualmente, realizzare ugualmente il concerto, anche perché questa è un'attività culturale che bene si sposa con il tempo che viviamo. Abbiamo bisogno non solamente di alcuni aspetti per regare l'animo, tante situazioni ci portano un pochino alla desligazione anteriore. La musica, quella ben fatta evidentemente, ci aiuta un pochino a vivere meglio anche la nostra esperienza cristiana e spirituale della natività di Gesù. Cosa si prova ad avere appunto questo aiuto? Pensare soprattutto a una cosa, intanto la solidarietà, ma poi anche quello che è un concetto fondamentale, cioè che la Chiesa non è del sacerdote, del vescovo, la Chiesa è della comunità, è la comunità che quindi deve essere la prima responsabile in qualche modo perché la Chiesa sia ben mantenuta e in uno stato, diciamo, ottimale per le sue funzioni. Una bella iniziativa culturale in questa stupenda Chiesa Madre di Manduria per sancire questa sorta di gemellaggio in definitiva tra il Rotary di Manduria e il Rotary di Monaco. Certo, il Rotary è internazionalità, è amicizia e farlo sancire questa alleanza, questo patto, questa amicizia in una Chiesa così bella e in un momento così particolare come quello del Natale è davvero un'esperienza esaltante. Io ne sono felicissima, ho fatto un po' di chilometri per arrivare, però sono soddisfatta di essere arrivata anche se con un po' d'affanno. Qual è l'augurio che vuole rivolgere a tutti i Rotariani? Ai Rotariani, l'augurio di trascorrere questo anno, questa metà, ormai siamo al giro di Boa, il mio anno di servizio termina a giugno e io spero, auguro a tutti i Rotariani e non tanta pace, tanta serenità e di vivere questo nostro rapporto, essenzialmente raccomando la tolleranza, la tolleranza verso gli altri che poi è un messaggio cristiano, accettazione dell'altro per come è, non per come lo vorremmo noi, che è una cosa che dobbiamo imparare, non sempre ce l'abbiamo presente. Gesù ci ha detto questo, non siamo tutti uguali, per cui ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Buon Natale! Grazie!